Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite Ernesto Bassignano, cantautore, presentatore radiofonico, ma una vita di cultura, di musica. A questo punto la domanda più semplice che ti pongo adesso è se dove si descrive oggi, che è Bassignano, come lo descriveresti? Distonico neurovegetativo post-68esco. Una descrizione molto complessa, sicuramente è complessa. Sì, no, è uno scherzo che uso da tanti anni, quando mi dicono appunto, ma tu hai fatto l'oscia con l'attore, l'autore, il regista, il cantautore e il giornalista. Chi sei veramente? E io non lo so. So che sono un curioso che ha fatto appunto 4-5 mestieri, si è divertito sempre, è stato molto fortunato, non ha mai dovuto sottostare a niente nessuno. Vabbè, insomma, in Rai è chiaro che non potevo essere proprio completamente libero di fare quello che mi pareva, però sono sempre stato uno senza padroni veri e propri, cioè mi sono veramente divertito sia a fare il DJ che, insomma, credo che ho fatto 6 mestieri. Nella Rai li ho fatti tutti. Ho cominciato con la scenografia, ho proseguito con volontè facendo il teatro di propagazione politica in giro per Roma. Poi foro studio, anni e anni con i quattro, poi loro sono partiti in tromba per il successo e io invece ho avuto questo 7-8 anni di follia politica comunista e mi sono legato alle botteghe oscure, a Berlinguer, all'assemble propaganda e sono diventato praticamente un cantautore, un funzione come hanno scritto su vinile e in diverse riviste un funzionario con chitarra. Ha avuto dei compiti bellissimi e importantissimi, cioè quelli di trovare i cantanti e i musicisti di tutta Italia militanti molto bravi d'autore e portarli tutti quanti a fare le feste d'unità e a lavorare politicamente, quindi per anni ho fatto quello. Quando nel 7-8 Berlinguer mi ha detto guarda che la festa è finita o sta finendo, io sono passato a Paese Sera e sono diventato critico musicale di Paese Sera, quando è morto Paese Sera sono finito in Rai ed eccomi qui. A questo punto parliamo intanto dell'ultimo lavoro, siamo in nostro tempo, quando nasce questo disco, come nasce questo disco, come si è voluto per poi arrivare a questo risultato. Ma guarda, da quando sono uscito dalla Rai nel 2011 in pensione, io non ho mai smesso più di suonare e comporre, è stato bellissimo. Sono tornato immediatamente all'antica, al primo amore e ho fatto come sai cinque dischi, uno in fila l'altro, quello su Cuneo, insomma che era, si chiama Vita che torni, poi il grande Bax, poi il Messiere di Vivere, poi Arlecchini e Pierrot e poi questo qui. Questo è l'undicesimo album, io il primo 45 giro l'ho fatto nel 75, addirittura, nel 64, 65. Quindi l'undicesimo album ed è la fine di un discorso cominciato con il Messiere di Vivere e il discorso di un uomo che ha vissuto intensamente, con grande fortuna, per anni e anni e anni tutta l'attività culturale migliore di questo Paese, con tutte le persone che ho conosciuto tutti, ho lavorato con tutti, migliori. Poi di colpo, eh di colpo ci sono stati vent'anni di Berlusconi che hanno rovinato la mia carriera e pian pianino siamo passati alla massificazione, alla televisione, a tutto meno che alla cultura alternativa, come la chiamavamo noi nel full studio. E quindi ho cominciato a vivere male, ho scritto appunto il grande Bax, il Messiere di Vivere, questo mal di vivere, un mal di vivere che è arrivato fino adesso, poi col Covid mi ha dato la botta di grazia, mi è servito il Covid per rifugiarmi in terrazzo all'ultimo piano e scrivere appunto due album in piena solitudine e in piena libertà. Questo è stato importante in questo. Credo che di aver fatto delle cose molto particolari molto egregie, così dicono insomma le recensioni di questi anni, di cui sono molto fiero. Però basta, perché come sapete, come saprai, ormai siamo in piena era rap, siamo in piena era pop, siamo in piena era dagli 8 agli 18 anni, quindi quelli come me che si rivolgono al pubblico di 40, 50, 60, 70, 80 anni non hanno quasi più ragione di esistere, tant'è vero che non ci sono spazi, non ci sono possibilità, in radio mi passavano, adesso non mi passano più, nonostante che sia un giornalista della RAI, non gli frega più niente a nessuno, tutto in mano a 4-5 enormi personaggi dei network e tutto il resto è nicchia. Io faccio parte di una nicchia meravigliosa, ogni tanto mi chiamano a raccontare epoche meravigliose, a cantare un po' di canzoni, c'ho un grande arrangiatore che Edoardo Petretti e una grandissima violoncellista che è Giovanna Famulari, che ogni tanto insomma riesco a pagare, mi faccio, piglio sul gruppo e faccio qualche teatro, però è roba sempre da 300 persone, insomma non si può fare altro. Poi musica, canta molto orale e quindi molta bucchitarra, voce, a questo punto io ho una boettina difficile, è che in realtà il tuo secondo album è Moby Dick, che poi riciti in queste canzoni, c'è una canzone, una citazione, io ti faccio una banda un po' più filopaca, ti senti più Aqab oppure Moby Dick in questo caso? Mi sento, ma forse né Aqab né Moby Dick, io sono uno che da allora scrive dischi per invogliare i giovani a non stare fermi sui muretti a bere birra, ma andare in cerca del mondo migliore, a cercare virtù e conoscenza. Quindi non uso molte metafore, molti simbolismi, apposto perché cerco di farmi capire in modo molto chiaro, cerco di fare poesia, ma poesia popolare, non a tutti i costi da salotto molto radical chic, molto difficile, insomma, ecco. Quindi, insomma, hai fatto bene a citare Moby Dick, RCA, che lì è nata e finita la mia avventura, perché siccome sono passato a fare il politico, cioè la RCA nel 75 mi caccio via e non credete più in me, allora poi è cominciata la mia seconda vita, ma però già in Moby Dick c'erano le stesse canzoni di adesso, cioè adesso sono sempre le stesse, cioè sono canzoni per un impegno di uomo per l'uomo e non l'uomo sull'uomo, un impegno politico e culturale, più che altro. Io penso che l'ideologia sia assolutamente morta. Come vedi, tutti i giorni sono chiacchiericci, liti da cortile e robetta, robaccia, robaccia. Io non mi ci trovo assolutamente più e quindi scrivo poesie che metto in musica e siamo il nostro tempo, è proprio una poesia messa in musica, nient'altro. Poi ci sono altre canzoni, ma in fondo sei, citando alcune tue canzoni, sei qui, prende però con voci della strada che vivano, prende una strada dove vive di silenzi, vive di sorrisi, vive di rumori, una strada che vive anche nel silenzio. Assolutamente sì, è una ricerca costante del silenzio che non esiste più. L'ho trovato ieri sera per me in Trastevere, finendo in certe stradine di Trastevere vecchia che nessuno conosce vicino al monte dove abito io, nel Gianicolo. Ogni tanto mi passeggio là e ricordo il film studio, il full studio, il teatro Laringhiera, Gia Maria Volontè, i grandi attori, insomma era un mondo tutto nostro per noi, facciamo un po' tutto noi. Il resto, gli altri non li conoscevamo, erano il mondo di Sanremo che non ci apparteneva. Quindi nel casino generale di un milione di notizie al giorno che ci perseguitano, con cose sempre più gravi, sempre più brutte, senza mai una ricerca di pace e di bello, mai, sempre solo il pessimo si va a cercare. E allora c'è bisogno di sentire, io vado in giro e annuso le strade, i muri, leggo sui muri cosa c'è scritto e appunto scrivo emozioni. Più di prima, prima erano molto sloganistici, spesso erano un po' delle invocazioni, delle invettive. Adesso scrivo emozioni, delle emozioni, perché non mi è rimasto altro. Cioè, questo è un mondo che, per cui o sei da copertina, o sei da un divo, o non sei nessuno. E ti dicono, ma com'è che tu non sei diventato famoso come vendite di Gregorio? Eppure al tuo studio tu eri il capo, dicevano che eri anche il più bravo, questo l'ha scritto anche Caputo nel suo libro. Perché loro sì e tu no? Ma perché io ho fatto un'altra scelta di vita, ho fatto una scelta completamente diversa, che è quella dell'operatore culturale e organico, cioè quello di fare tanti mestieri, ma tutti tesi all'impegno civile e poetico. E appunto, tu hai citato la copertina. La copertina del disco è un'immagine in bianco e nero che comunque ha sicuramente un molto significato per te. Eh, per forza, perché... Ma insomma, cercavamo, ne avevo trovate tante, poi dei miei amici mi hanno detto, ma hanno visto la foto di me e mia sorella, io a cinque, lei a nove anni, a Cuneo. Una foto meravigliosa e siccome mia sorella purtroppo era l'ultima, oltre... Eravamo rimasti due Bassignano, io e lei. Due anni fa mi ha lasciato, la grande regista Ida Bassignano mi ha lasciato. Sono rimasto l'unico e l'ultimo Bassignano e allora pieno di nostalgia e di ricordi per questa sorella straordinaria. Lei è una vera intellettuale, io un po' meno. Eh... Gli ho dedicato... Ho dedicato a noi due, fratelli Bassignano, nipoti del generale Ernesto Bassignano, colonnello degli Alpini. E a Cuneo ho dedicato questa cosa assurda, perché siamo nel nostro tempo e non vuole dire niente quella copertina. È soltanto un ricordo, sì. È una contrapposizione tra quel momento lì, alcune con le biciclette e i mangiadischi, con quello che è adesso oggi, che è tutto Facebook e TikTok e Instagram. Non mi ci ritrovo, ecco perché poi ho scritto quel programma per dieci anni con Ezio Luzzi, che ha fatto tanto ridere la gente al pomeriggio. Divertiva tanto perché io facevo goliardia con cultura, nel senso che in quella goliardia, in quelle battutacce, le risate crassiche che facevo, dentro ci mettevo però la grande musica, i grandi poeti, parlavo anche della pittura, delle cose così. E quindi è stato l'ultimo tentativo della radio, se ci vai caso, di una cosa indiretta dove si discute della quotidianità e si prendono in giro gli stupidi, non quelli di destra o di sinistra, gli stupidi che sono dappertutto. I vacui, gli scemotti, ci hanno divertito moltissimo. È stato l'ultimo grande divertimento. Purtroppo nel 2011 la RAI mi ha cacciato via perché davo fastidio al signor Silvio e hanno trovato il modo invece di farmi la CIA e di tenermi lì a vita come il rugito del coniglio. Allora loro hanno detto, ma tu non puoi, tu sei giornalista, non sei un contratto come loro, tu sei un giornalista del GR1 per cui tu a 65 anni scusaci tanto a Bassiano ma te ne vai a casa perché c'è la pensione. Io ho detto, vabbè ma fatemi, un contratto si ha e no, no, a te non te lo facciamo, ci credo. L'ho fatto per dieci anni incazzare Silvio. Quindi sai, 500 mila, non dimentichiamo, è stato il programma più seguito di Radio 1, eh, nell'ammiraglia. 500 mila ascoltatori al giorno per dieci anni. Ho perso il trend. Sì, ho perso il trend. Aveva un certo impatto sul pomeriggio, sul pomeriggio degli italiani. Alla fine si sono proprio scocciati e non lui perché Silvio era comunque uno spiritoso, ma i suoi tirapiedi che sono i peggiori d'Italia, che erano i peggiori d'Italia, fecero in modo che io non potevo andare avanti altri due o tre anni, magari guadagnare anche finalmente qualcosa. Hanno penso per il mulo doppiamente, primo perché mi hanno cacciato via, secondo perché adesso finalmente avrei guadagnato come broccoli, come altri, insomma, 500 euro a puntata, sarei diventato ricco e invece nel momento in cui potevo diventare ricco, mi hanno detto che la CIA non me la davano e quindi io sono rimasto a stipendio RAI, che non aveva certo da buttare via, io sono un pensionato RAI, quindi ecco perché posso farmi dischi da me, me li faccio come mi piace a me, con la gente che voglio io, non c'ho produttore, sono io autore e produttore di me stesso, spendo sempre 10-15 mila euro a disco, quindi sto dilapidando la mia fortuna, ma ha un gusto incredibile poter fare come mi pare a me le cose mie e sentirmi dire anche che sono belle, anche se non vanno in onda perché fino a 7-8 anni fa andavano in onda, adesso proprio veramente ormai va in onda solo Tananai, Lassa, Achille Lauro, Madame, l'altro giorno ho trovato Renato Ziero che abita qui vicino a me, mio vecchio amico Renato, a Monteverde mi ha detto guarda René, tu stai a caragnare, caragnare, ma guarda che non mi andano in onda neanche me, ormai va in onda solo, la musica dagli 8 ai 18 anni. E a questo punto io ti chiederei, le emozioni che si prova, le sensazioni che provi quando suonandola al vivo e davanti c'è gente che non solo ascolta, ma le vive le tue canzoni e poi te le vedi davanti con quel sorriso, quella sensazione proprio di rilassatezza che ti permette poi di suonare ancora meglio, quale sensazione provi in quel caso? Sì, è verissimo, è una cosa bellissima, certo non sempre è pieno il locale o la piazza, se non è pieno io sono un artista anch'io per cui vado un po' fuori di capoccia, magari mi incazzo, comunque non mi sento granché forte, magari dimentico le parole, cioè vado fuori subito, ma se invece vedo che c'è aderenza e sento i battimani, sento la gente che mi applaude, allora dicono che io divento una vera bestia, nel senso che canto come Eratenko le cose belle che a quella maniera lì e spiego tante belle cose, faccio tanti begli interventi culturali, mettendoci dentro appunto i ricordi dei tempi di Volontego, la gente gode moltissimo, ma ci vuole un teatro giusto o un chiostro estivo dentro, non so, un bel cortiletto con le sedie tutte belle, se c'è un po' di casino, qualcuno che rompe le balle, che non capisce, io ultimamente sono diventato molto amico di Morgan, anche se questo mi può apparire strano perché indubbiamente non ha niente che vedere con me, però io lo capisco molto perché siccome l'ho conosciuto bene, è venuto a cantare le mie cose di Bindi e gratis, è stato molto carino perché lui ama, Bindi ama tutti i grandi cantautori, anche questo mio ultimo disco lui ha scritto, hai visto sulla segna stampa, l'abbiamo messa, la sua lettera è molto bella e lui lo capisco quando si incazza perché c'è qualcuno che gli urla, faccio ridere, canta c'è qualcosa, è chiaro che si incazza perché lui poi è un caratteraccio, io magari si metto di cantare, poi non faccio certo quei casini, ma lui invece parte dalla brocca perché non si trova bene con questo pubblico bue che c'è adesso in giro, lui ha una cultura mostruosa, non solo musicale, mostruosa, sa di Engel, di Engel e di Marx così come di Bach e di Enrico nella stessa maniera, quindi vive male, vive malissimo, peccato che è così sborone perché se fosse più tranquillo sarebbe una roba eccezionale, peccato insomma, però lo capisco che potrebbe evitare di incazzarsi troppo. Invece poi scendendo dal palco tu incontri la gente che ti guardano, ti fanno oltre a fare domande tecniche. Non mi lasciano andare via più, non mi lasciano andare via più, tant'è vero che se io lavorassi di più, cosa che faccio pochissimo, venderei più che prima nei negozi perché ogni volta che canto, anche se è un paesino dell'Alto Lazio in piazza con le serie messe così, io con la chitarra dal vivo senza microfono, ci sono 40 persone, si comprano 40 dischi e si comprano anche i miei libri, molti i miei libri, cioè comprano tutto perché c'è una tale amicizia, si crea una tale amicizia, una tale adesione politica e morale umana che si comprano tutto. Quindi io vado in giro con una borsa piena di roba perché lì si vende, insomma, fa piacere. Se avessimo dimenticato qualcosa di questo disco, secondo te cosa avremmo dimenticare? Passerà, perché mi rappresenta di più. Io questo video l'ha fatto un bravo regista nel tentativo di fare una cosa molto forte, molto emotiva perché parla dell'immigrazione chiaramente, un po' come la colonna sonora del film di Garrone. C'è qualche cosa di aneddoto particolare che ti ricordi nella realizzazione del video? che poi ti è rimasto un po' in memoria. No, no, mi ricordo la realizzazione del disco più che altro, che è stata una cosa bellissima come sempre le mie cose perché ho un arrangiatore, Pietretti, che è ormai considerato un genio del jazz, un pianista mostruoso e stavolta gli ho detto senti, Edoardo, lasciamo perdere i fiati, la batteria, il basso, facciamo un disco voce, pianoforte e fisarmonica? E lui è un grande fisarmonicista e abbiamo fatto un disco che come sentirei è tutto pianoforte e fisarmonica. È una cosa coraggiosissima in Italia, è molto francese. Per esempio c'è quella che dice il tempo circolare a volte ritorna, quella si finisce con un pezzo proprio da Fouli Berger, quelle cose del fine ottocento, prima di novecento, in tempi di Picasso. Sono molto diversi l'una dall'altra, ce n'è una tradizionale, col vecchietto che muore la mattina al barbone sulla panchina, quella è molto commovente, e ce n'è una sola d'amore, è l'ultima. E invece un'altra curiosità, fare il critico musicale ed essere artista... È stato un errore pazzesco, è stato un errore pazzesco, lo ammetto, lo confesso. È stato un errore che mi ha rovinato, mi ha rovinato. Io sono talmente innamorato della musica, che nel 78, quando è finita la canzone politica, me l'hanno chiesto a paese sera, mi hanno detto che era un grande giornale, e mi hanno detto, senti, abbiamo sempre scritto di te, scrivi tu, di te e degli altri, visto che sei... io me lo sono lasciato scappare, meglio così, perché poi pian piano sono iniziato ad un giornalista professionista, però è stato un errore pazzesco. Tu non sai l'imbarazzo di Vecchioni, di Cuccini, di Pino Daniele, di Battia... Cioè, fino a un attimo prima eravamo insieme, un attimo dopo sono iniziato il recensore dei loro dischi, quindi loro erano... poi siccome io sono uno sedio, non è che scrivo sempre bene degli amici, no? Per esempio, Luca Barbarossa, che era un mio grandissimo amico, a me i suoi dischi non piacevano, gli ho dato un po' addosso e quello da allora... vai a sapere che diventava uno importante a Radio 2. Dall'ora, dall'85, mi odia, da quando gli ho stroncato il secondo album. Quindi ho fatto malissimo, perché già ho fatto male a fare politica invece di fare il cantatotore, dovevo seguire le orme di Tantonello e Francesco. Moby Dick, del 75, la RCA aveva deciso di lanciarmi come loro due. Melis, il grande Melis aveva deciso... Poi ha scoperto che stavo... stavo facendo propaganda politica nella fabbrica della RCA. Stavo complottando... sai, la RCA era a metà del Vaticano, a metà democristiana. Quindi quando hanno capito il personaggio che avevano preso, a loro l'hanno mandati avanti, a me mi hanno detto, sì, di questo è il contratto, arrivederci, ciao, continua a fare politica. Ti saluto, ti saluto. Peccato, peccato. Ti ricordi la prima recensione che hai fatto? Hai notato in Moby Dick, hai notato chi era il produttore? No, di Moby Dick mi sfuggi del produttore. Rino Gaetano. E pensa che al pianoforte c'era Gianni Leone, palletto di bronzo, che è stato considerato forse uno dei più grandi pianisti prog italiani. C'era addirittura Battistelli alla batteria, che è diventato il direttore dei conservatori di Roma, uno dei più grandi autori di musica contemporanea del mondo. Quindi Moby Dick è una cosa di una rarità pazzesca. C'era Samale, che era il flautista più bravo d'Italia. Le cose... Purtroppo me lo sono giocato. Me lo sono proprio giocato. Che vuoi fare? Sono fatto così, sono una mina vagante io. Però il bello della vita è questa, è che bisogna viverla. L'ho vissuta, però tanto è vero che se tu guardi il mio libro che trovi su Google, no? Canzoni, pennelli, bandiere e suppli, con la copertina di Staino, bellissima, è la terza edizione perché è piaciuto totalmente tanto questo racconto di questi giorni degli anni 70 a Roma ed intorni, che lo vendo ancora parecchio. E lì c'è tutto me stesso, cioè proprio il fatto della curiosità di lavorare dappertutto, di fare qualsiasi lavoro pur che fosse a contatto con la gente per divertirsi e raccontarsi, raccontare. Cioè io già il fatto che sono nato a Roma, poi sono finito a Cuneo dove ho i miei avi, la mia storia è cunese. Quando papà morì e sono tornato a Roma a fare la bohème, quindi non sono né cunese né romano e in questo libro comincia dicendo ma io sono un romano a Cuneo o un cunese a Roma. Queste cose sono gravissime perché io non ho una radice, non ho una radice. Anzi sono più cunese che romano perché quando torno là mi commuovo molto, quando torno a Roma non mi frega niente. Quando vedo i monti penso a papà, penso al mio liceo, penso al tennis, alla palacanestro, è chiaro che mi commuovo perché ho scoperto con l'età e ricordo, cioè dagli 8 ai 18 anni c'è tutto, poi il resto è niente. Ma io siccome sono tornato a 8 anni a Cuneo e ho fatto le scuole lì, fino al liceo, poi lì ci ho trovato le fidanzate, la neve, la squadra di palacanestro, il tennis tutto l'anno, i portici, gli amici, le bande disperati che eravamo, i provinciali proprio tremendi. Come si fa ad avere nostalgia di quell'epoca? Penso che uno di quelli seduti con me sotto al bar corso a guardare le ragazze che passavano si chiamava Briatore, si chiamava Flavio Briatore. Eh, qualcuno, ti deve stare anche lui l'ha fatta. L'ha fatta troppo a ricarire. Poi un'altra cosa notevole della mia formazione musicale, anche fortuna, è essere nipote di Fiorenzo Carpi. Se non lo sai, Fiorenzo Carpi è quello che ha scritto Le Mantellate, forse la canzone più importante della musica folk italiana, no? Che ha scritto Mamì, quella che canta sempre Ornella Vanoni negli anni 70. Mamì, Mamì, con Streller. Lui era quello che ha scritto 40 anni di commedie per Dario Fo. E i testi con Streller. Poi ha scritto Pinocchio. Ha scritto delle cose, canzonissima, le canzoni quelle, quando canzonissima l'ho prese con la moglie Fran Carame e dopo due puntate si accorsero che facciate i programmi comunisti. Il canzonissimo era diventato anche comunista. E l'hanno cacciati via. E c'era quella canzone, io ho perso il trend, l'ho messa tutta per dieci anni, che diceva Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi, sono arrivati i re dei ciarlatani. E sono cose meravigliose. E la milaneseria di Iannaci, di Cocchi e Renato, del derby, quella che io ho dentro di me. C'ho Cuneo, c'ho Roma, ma più che altro c'ho quella lì, c'ho Iannaci, c'ho la Milano di Streller, Carpi, Iannaci, Fo. Bellissimo. Io starei qui, noi staremo qui ad ora ad ascoltarti, perché hai tanto da raccontarci. È tanto... Fai propaganda il mio libro, guarda che... Lo trovi, basta andare su Google, scrivere Banziano, canzoni, pennelli, bandiera di massa, scrivere canzoni, pennelli, già compare. Quello, se te lo ordini, te lo compri, ti giuro che passerai un giorno e mezzo senza staccarti. Perché c'è tutto. C'è quando ho presentato Rino la prima volta al Full Studio, c'è Mastroianni, c'è questo Cuneese che arriva a Roma insieme a Duirio del Prete, che ha tradotto tutto a Jacques Brel, impara Jacques Brel, impara a Joyce Brassens, e si mette a fare l'Accademia delle Belle Arti in Via Ripeta, insieme a Guttuso. È chiaro che ho avuto una vita meravigliosa, meravigliosa, unica proprio, veramente. A questo punto a noi ci mancano soltanto una cosa. Dove potresti raggiungere il link, devi poterti raggiungere, poter comprare il disco, il libro, i libri, e i saluti finali. Da dove mi chiami tu? D'Ascoli, Biciano. D'Ascoli? Sì. È venuto solo una volta, sono venuto, in una grande libreria in piazza. La Rinascita. Rinascita, ho presentato uno degli album, la Rinascita, c'era un personaggio, che era un po' della direzione del PC, per cui mi aveva invitato. Ascoli mi fa un po' paura, nel senso che è di una bellezza pazzesca, però è lontana dal mondo, è cupa, è stranamente cupa, non c'è allegria. Forse perché appunto è lontana da tutto, non so bene perché, ma non se ne parla mai, infatti, se ci fai caso, grazie a Dio, grazie a Dio per voi, non se ne parla mai, non succede mai niente. Non credo siano grandi omicidi, neanche grandi delitti, perché siete gente di una provincia importante. io nelle Marche ci sono stato per anni, perché ti ricordi che ero anche lo sponsor della Rai per musicultura, quindi sono stato nel 1990 a fare il primo Recanati, non era ancora Macerati, era Recanati, eravamo io, Ruggeri, Bindi, Endrigo, Teresa De Sio e Stefano Rosso, nel cinemino di Recanati. Poi sono sempre stato tutti gli anni, per molti anni, perché poi loro sono venuti a Roma a Radio 1 e io sono il loro sponsor, mandavo in onda le loro canzoni e quindi nelle Marche venivo sempre ed è stato un altro periodo felice, perché mi volevano benissimo Recanati. Quando a Macerata sono finiti allo Sferi Stedio, hanno cominciato a fare gli sboroni con mille persone, alla Sferi Stedio, ci volevano tutte le mille persone, hanno cominciato a invitare tutto il bello di Recanati, si è perso completamente. Non eravamo più poeti e cantautori, ma Divi e Signore Impellicciate. E allora io me ne sono andato, ho mollato, perché non mi piaceva più. Peccato, perché insomma, per me le Marche sono stati un ottimo posto per tornare a cantare. Non mi invita più nessuno, un po' per i soldi, un po' perché veramente ormai appunto il cantatore e l'autore non ha spazio. Salutiamoci qui e speriamo di sentirci presto. Grazie per l'attenzione, viva Ascoli di Ceno, statemi bene e impegnatevi come me. Ciao, ciao. Studio 7 TV e Sport Picciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata